Siamo della partita, al microfono di Tiziana Alla, Tiziana. Davide Fratesi, sei il man of the match, 4 gol in 9 partite, con Spalletti sei il bomber di questo ciclo. Sì, potevo farne anche altri, quindi c'è sicuramente da migliorare, ma da migliorare il livello in generale, perché se vogliamo arrivare pronti dobbiamo mettere qualcosa in più, ma siamo sicuri che continuando a lavorare ci arriveremo. Ecco, una maggiore incisività sottoporta è quello che serve, che cos'altro ha messo in mostra questa serata su cui dovete lavorare? Credo che oggi le occasioni le abbiamo comunque ergate, le abbiamo avute, poi bisogna essere bravi a gestirle meglio, perché chiaramente poi nel girone saranno sempre meno le occasioni, quindi dovremmo essere bravi a sfruttarle quelle che avremo, però secondo me si sono viste delle cose interessanti che andranno poi riportate e fatte sicuramente meglio. Telegraficamente quali le cose migliori questa sera? No, credo alcune giocate, sono tre quarti, poi comunque ci siamo trovati, era una delle prime volte che giocavamo con questo modo insieme, quindi c'è solo la possibilità di migliorare. Grazie, grazie Davide Fertesi, Lina ed Alessandro Antinelli.